Vogliamo provare una cosa indiretta? Sì, vogliamo provare una cosa indiretta! Ci abbiamo un pallone? Sì, intanto ho un pallone! Mara, questo è per te innanzitutto il pallone! Questo è mio, ma la cuffia? Sì, la devi mettere! Me la devo mettere! Ma ve la mettete pure voi? Grazie a tutti! Grazie a tutti!